Da tre settimane il Foggia ha letteralmente calato la Saracinesca. L'arrivo di Demba Tiam, il 25enne portiere senegalese che il DS Sapio è riuscito a prendere dalla spalla, ha sigillato i pali della squadra che da qualche giorno è diventata di somma. Tre gare di campionato in cui l'estremo difensore, che con i ferraresi ha esordito anche nella massima serie, oltre che a giocare in B, ha sfoggiato parate da autentico campione, decisive per portare a casa punti preziosissimi. Il debutto all'uscita di Crotone, dove fu costretto a piegarsi solo per una sfortunata deviazione di Garattoni, a tempo ormai scaduto, una deviazione che negò al Foggia la gioia del colpaccio. Poi, dopo lo sfortunato intermezzo di Coppa Italia contro la Juventus Next Gen, altre due gare ed altrettanti clean shot, porta inviolata contro la Juve Stabia e prodezze in serie sette giorni più tardi nel derby di sabato scorso al Degli Ulivi contro l'Andria, dove proprio i suoi prodigiosi interventi hanno consentito al Foggia di prendersi l'intera posta in palio. Oggi Tiam è uno dei punti fermi della squadra rossonera. A Foggia è giunto in prestito, ma c'è da giurarci che a prescindere da come finirà la stagione, l'estate prossima il club del patron Nicola Canonico proverà ad inchiodarlo dalle parti dello Zaccheria. Nel frattempo, se lo gode Somma con una porta a cui Tiam ha messo il doppio lucchetto, il sogno di rendere indimenticabile la stagione può, chissà, diventare realtà.